Ciao a tutti, sono Lorenzo Simeoni, allenatore del Under 17 dell'Anerossi Vicenza e coordinatore del progetto tecnico. Questo video si rivolge agli allenatori ma anche ai ragazzi, ai bambini che amano il calcio. Stamattina parlando con altri allenatori al telefono abbiamo fatto un'ipotesi di un'idea, un paragone con quello che sta avvenendo in questi giorni. Una situazione in cui molti di noi si sono trovati e che è quella in cui siamo alla partita e l'arbitro non arriva. Oppure siamo alla partita, arriviamo al campo e vediamo che probabilmente sarà impraticabile e quindi l'arbitro deciderà di non farci giocare. Ecco noi mister in questo momento credo ci troviamo un po' in quel tipo di situazione. Dobbiamo, anche se dentro di noi magari pensiamo che non si giocherà, dobbiamo riuscire a dire ai nostri ragazzi che la partita si giocherà, la dobbiamo preparare con tutti i dettagli come facciamo ogni volta, dobbiamo uscire, dobbiamo fare un riscaldamento fatto bene, dobbiamo tenere tutti sul pezzo in maniera tale che se l'arbitro arriva all'ultimo momento o decide di farla giocare in caso di campo impraticabile la nostra squadra è pronta. Idem per i ragazzi o per i bambini. Penso che anche voi vi siete trovati qualche volta in momenti in cui l'arbitro non arriva e quindi cominciate a chiedere al mister, ma mister si gioca, non si gioca e il mister ovviamente vi deve dire certo che si giocherà ma anche voi vi scaldate ma magari non con quella attenzione o con quella particolare determinazione che ci mettereste in una situazione normale. Ecco in questo momento la vedo un po' così. Noi allenatori abbiamo questo compito, il compito di aiutare i nostri ragazzi, i nostri bimbi a tenersi pronti, ad allenarsi perché non sappiamo quando riprenderemo a giocare ma di sicuro quando riprenderemo a giocare ci faremo trovare pronti. Chiaro che ognuno di noi ha spazi differenti, c'è chi ha molto spazio invece chi ne ha pochissimo ma conto molto sulla creatività di ognuno di noi anche perché non è solo un discorso calcistico ma è anche proprio un discorso motorio, è importante riuscire a fare movimento anche se lo spazio a disposizione che abbiamo è poco e quindi cerchiamo di riuscire a provare a muoverci e a darci da fare durante la giornata. L'altro esempio, l'altra comunicazione che volevo fare è quella che da sempre nel progetto L'Anerossi Vicenza il nostro responsabile Michele Nicolini ha sempre detto a tutti i mister che le porte del settore giovanile dell'Anerossi sono aperte a tutti. Ecco noi vogliamo mantenerle aperte anche in questo periodo in maniera virtuale dicendo che questo è un momento che si può sfruttare. Quando faccio i corsi per allenatori spesso mi viene detto mi piacerebbe avere più tempo per aggiornarmi, più tempo per studiare, per approfondire, per scambiare opinioni con altri mister. Ecco chi tra di noi è a casa e deve rimanere a casa può ritagliare dei momenti della giornata proprio per approfondire, per studiare via web, con dei libri, per andarsi a rivedere degli appunti di alcuni corsi fatti in precedenza, telefonando o videochiamando con altri amici e in questo contesto se vi interessa, se volete, parlo a nome di tutti i mister dell'Anerossi Vicenza, ci siamo anche noi. Ci potete contattare sui social, via mail, solo così anche per qualche informazione, per fare una chiacchierata di calcio, ovviamente limitatamente con quello che potremmo fare, però i nostri campi restano aperti anche in maniera virtuale. Nel salutarvi vi mando un caro saluto ma il mio pensiero, perdonatemi, ma va in particolare a mandare un grazie formato gigante a chi continua a lavorare in questi giorni e magari preferirebbe stare a casa per evitare di esporsi ai rischi che tutti quanti ben sappiamo e un altro augurio importante e sentito è a coloro che hanno contratto la malattia o i loro cari hanno contratto la malattia con l'augurio di riuscire a superare il momento e quindi un caro saluto a tutti.